A Dagnano i cavalli della seconda corsa sono agli ordini dello starter. Premio Cesare, un miglio per soggetti di quattro anni, ritirato Dreaming of You, restano in sei. Dallo steccato Duitte Gain, Antonio Esposito, Dustin Di Meletro, Gennaro Amitrano, Dablusen Gregi, Vincenzo Gallo, DJF, Giuseppe Ruocco che sostituisce Gennaro Riccio. Poi Diocleziano DWS che ha perso la partenza e Damasco FS. Al via Dablusen Gregi, come prevedibile, assume l'iniziativa nei confronti di DJF e a largo interviene Damasco FS. Insegue il favorito Diocleziano, 200 metri in 13 secchi. Immediatamente l'ideale lui se palla de B, neoallievo di Mario Minopoli, è a comando delle operazioni. Primo quarto ultimato da Damasco in 28 secchi. Notevole la frazione iniziale. Interviene a largo Diocleziano. Seconda la corda Dablusen Gregi, a precedere DJF. Poi Dustin Di Meletro chiude Duitteghin. 42,7 i 600 iniziali. È iniziata la grande. Gran velocità in questa seconda corsa, nella prima parte di gara. Frazione un po' più comoda in curva in 16 scarsi, 58,7 a metà gara. Prosegue al comando Damasco FS nei confronti di Diocleziano e Dablusen Gregi. Si è mossi in pariglia anche DJF. 13,2 il chilometro. Perde battute Diocleziano. Controlla Damasco. Dablusen Gregi nella sua scia. Tre quarti di miglia in 1,28 con 14,7 dai 1.000 ai 1.002. Prova lo stacco Damasco FS. Non si scrolla di dosso Dablusen Gregi. Ingresso in retta. Dablusen in vantaggio. Ci prova Dablus. Prova un ultimo attacco all'avversario. Lo coglie leggermente in crisi. Lo va ad impegnare severamente. si difende bene l'allievo di Minopoli e va a vincere di una mezza lunghezza ad una media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1,13,8. Subito un successo alla prima uscita per il team Minopoli di Damasco FS i colori della Demon. Mario Minopoli in salchi. al figlio di Ideale lui si palla de B. Corre bene Dablusen Gregi mentre delude Diocleziano di WS che rincorre dopo incertezza in avvio e finisce al quarto posto per il terzo do it again.